Buongiorno a tutti, io sono Stickatz e oggi siamo qui con un nuovo video riguardanti lo spacchettamento della team box dei calciatori, cioè gli aggiornamenti che esce tutti gli anni dentro questa bellissima scatoletta. Quest'anno hanno pure messo come una rivestitura di cartone, molto figa raga, bella. Raga, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollice in su. Ho due cose da dirvi, la prima raga è che mi hanno bloccato l'account di Instagram, non so per quale motivo, l'ho già contattato Instagram. Speriamo che nei prossimi giorni mi sistemi non sta cosa, quindi adesso vedrò, non so proprio per il minimo idea perché me l'hanno bloccato. Comunque, e seconda cosa, chiedo scusa a Saverio perché ho sbagliato il suo nome nel vecchio video, nel salutarlo. Quindi raga, rimanete fino alla fine perché a fine video saluterò altre persone. E ora andiamo a spacchettare questo piccolo team box che raga sicuramente avete già visto, però volevo portarlo anch'io perché non l'avevo ancora aperto io. Quindi perché non farci un bel video sopra? Allora, vediamo. La team box è questa. Questa è la scatoletta, questa è la 9,90. Raga, la scatoletta obiettivamente è diversa dalle ultime. Sì, è molto diversa in realtà. E ora andiamo a aprire e vedere il contenuto di questa piccola meraviglia. Allora, abbiamo la checklist con tutte le figurine che troviamo all'interno, tutti i giocatori arrivati e quelli anche da trasferire con il tagliandino. Andiamo a metterlo qui. E ora andiamo a spacchettare. Gli altri anni erano solo dentro così. Oggi e quest'anno sono dentro questo specchio di impacchettatura, il pacchetto. Allora, abbiamo... Non sono rigide, raga. Sono più rigide rispetto alle figure che escono dai pacchetti, comunque. Allora, abbiamo Iago Falch, Caldara, Perin, Moses, quindi tutti gli acquisti, raga, che sono arrivati. Dominguez del Bologna, Bjarnason, Rogani. Ecco, raga, ci sono anche degli giocatori che non c'erano le figurine, ma possiamo trovarli nelle sezioni altri giocatori. E le hanno messe anche negli aggiornamenti. Siccome hanno fatto bene. De Iola, Paloschi, Suomaro, Eriksen, questo qui lo aspettavo, Duncan della Fiorentina. Poi vai trasferito. Trasferito, trasferito. Poi abbiamo Zucanovic, Kurtic, Politano, Charles Perez, Zeglar. Due ai natori che sono Di Biagio e Lovco che hanno appena sostituito. Abbiamo Sailmakers, Diego Demme, Bruno Perez, Lucas Castro, Thursby, che è raga che ha appena preso il coronavirus, poverino, questo ragazzo. Però dovrebbe star bene. Poi abbiamo Saponara, Barak, Patrick Cutrone, un altro che ha preso il coronavirus, quindi Cutrone, Thursby, e anche Rugani, fatevi forza che ce la farete. Anche perché stanno molto recuperando molto bene questi ragazzi. Borini. Questo qua non so chi sia, raga. Tamezze, peraltro che lo sento. Masiello. Ashley Young, dal Manchester United. Barrow, dall'Atalanta. Pereiro, Gaston Pereiro. Giulio Donati. Bor Cavaliero, che è un altro insieme a Rugani, che c'era già, però non l'hanno messo. Igor. Berami. Altri trasferito. Tantissimi, raga, i trasferiti. Radu. Tonelli. Altri due amatori che sono Diego Lopez e Giacchini. Bonifazi. Zlatan Ibraivovic, raga. Eccola qua. La figurina che è più attesa di questo mercato. Del Milan, con quattro scudetti. Sette stagioni in Serie A. E tre supercoppe. No, sono Coppe Italia quelle. O sono le supercoppe? Scrivetevi nei commenti se sono supercoppe o Coppe Italia. Forse sono supercoppe. Lobotka. Villar. Cherry. Criacopulos. Simon Chier. Davide Di Nicola e Gennaro Gattuso. Generatori. Caprari. Questi sono i sostituti. Sostituto. Poi abbiamo vari non hai vinto. Quindi dei pacchetti. E ve li regalo, raga, questi. Quindi se chi volesse prenderli, può averli. Ecco qua, uno. Vabbè, questo era il coppe. Ah, mi hanno trasferito. Due. Tre. Quattro. E cinque, raga. Ve li regalo. Intanto a me non me ne faccio niente. Io ho già ordinato il pallone. Raga, questi sono gli aggiornamenti. La team box. Molto, molto bella. Eccola qua. E raga, ora passiamo ai saluti. Che sono, oggi voglio salutare. Francesco Giavarone e Gaetano Russo, dodici. Ragazzi, se volete essere salutati, iscrivetevi sotto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete ancora fatto. Che per me, veramente, è una bellissima cosa. Che anche perché dovrei essere arrivato a 100 iscritti oggi. Detto questo, raga, al prossimo video.